Eccolo, eccolo! Eccolo, eccolo! Facendo assaporare una comicità che al nord non hanno. E quindi io ringrazio l'amico Borbone, con il quale stiamo preparando una serie di film che loro scriveranno e interpreteranno per voi. E quindi questa è una grande e piacevole novità. Poi ragazzi, per quanto riguarda il mercato, stiamo comprando, compreremo, saremo forti, saremo competitivi, ci divertiremo!